ciao io sono morena e vi do il benvenuto in questo nuovo video oggi parliamo di aborto so che è un argomento molto 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 delicato ma ultimamente lo sto leggendo su diversi profili anche femministi e quindi volevo appunto farne un video per far nascere una discussione a riguardo qualche settimana fa ho fatto un sondaggio su instagram e ho chiesto appunto siete favorevoli all'aborto e con mia sorpresa in realtà il 100% di chi ha risposto ha risposto di sì naturalmente questo non vuole essere un dato anche perché non hanno risposto neanche in centinaia questo video soltanto decine di persone però mi sembrava una cosa interessante per cercare di intavolare questa discussione non voglio dirvi che come la penso io nello specifico in questo video ma volevo riassumere un po quello che sento dire dai due poli opposti di questa discussione ovvero da quelli che sono favorevoli all'aborto e quelli che sono contro per la scienza un embrione non è un bambino motivo per il quale si può abortire entro i tre mesi di gravidanza la possibilità di abortire quindi non è più reato e più precisamente lo è dal 22 maggio del 1978 grazie alla legge 194 tante persone però sono ancora non favorevoli all'aborto questo perché pensano sostanzialmente che un embrione effettivamente sia ancora una vita e ponendo fine alla crescita di questo embrione si pone fine anche all'esistenza di questo bambino e quindi all'uccisione di questo essere umano questa è una decisione che viene detta sempre religiosa anche se secondo me non è sempre così perché non si accenna tanto all'anima all'anima che dio ha deciso di mettere dentro il grembo di una donna un'anima da salvare ma viene proprio detto che un embrione è scientificamente un grumo di cellule che si mette insieme e che si sta già formando come bambino alla fine a tre mesi se voi guardate un'ecografia un bambino un embrione scusate ha già quasi gli arti ha già molti organi ha già un cuore che batte e di conseguenza non è che si proprio può dire che non sia niente che possa esistere nel mondo le persone che invece sono favorevoli all'aborto dicono che effettivamente nonostante sia comunque un embrione che si sta formando in ogni caso è una vita che non sarebbe mai in grado di esistere se noi togliessimo dal grembo materno un embrione a due mesi tre mesi non riuscirebbe mai a sopravvivere nemmeno con tutte le tecnologie che abbiamo oggi e quindi loro questo non lo considerano vita tutto il discorso sull'aborto infatti si basa principalmente su cosa è vita su cosa significa vita ci sono persone che pensano che l'embrione sia una vita perché si sta già formando perché le cellule si stanno si sono già unite hanno già iniziato a creare un futuro essere umano e ci sono altre persone che invece dicono no perché a tre mesi un embrione non riuscirebbe mai a sopravvivere citando una ragazza che mi ha scritto su instagram riguardo appunto al sondaggio stiamo nel 2021 ci sono un'infinità di metodi contraccettivi che consiedono addirittura di scegliere quello che più si addice alle proprie esigenze e quasi sarebbe tutta una parentesi sul perché solo la donna dovrebbe preoccuparsi della contraccettione però è un altro discorso che magari schipperò più avanti a più avanti non viene data la giusta importanza la giusta considerazione le conseguenze delle proprie azioni questo perché tante volte si criticano le persone che decidono di abortire perché magari sono rimaste incinta in modo un po ingenuo forse e quindi qua si va a criticare più che altro il movente che ti spinge ad abortire secondo me qui il concetto è ancora più sbagliato perché si va a giudicare una persona per le proprie intenzioni quando di base sempre si va ad abortire che sia un motivo sciocco per te o che sia un motivo valido per te alla fine è sempre la stessa cosa stai facendo non esiste un mezzo che giustifica un fine negativo se per te quella cosa è negativa è negativa e basta infatti io non mi sento giudicare affatto nessuno che sceglie di abortire io credo che lo farei anzi una volta ho rischiato di rimanere incinta ero terrorizzata terrorizzata da morire ho mandato il mio ragazzo a prendermi il test perché mi vergognavo da matti e avevo paurissima e penso che sicuramente avrei abortito se fossi rimasta incinta perché io e i bambini siamo due mondi completamente opposti e oltre ad essere infelice io sarebbe stato infelice sicuramente il bambino perché non gli avrei mai dato l'amore che un figlio meriterebbe dalla propria madre o dai propri genitori in generale quindi il mio motivo sarebbe stato forse sciocco perché non mi è successo niente non sono stata violentata non è successo niente per cui il mio aborto sarebbe stato sensato secondo alcune persone ma lo avrei sicuramente fatto credo quasi al 99 per cento avrei preso quella scelta quindi non mi sento di giudicare chi decide di farlo perché ogni situazione è a sé ogni persona è a sé è anche vero però la famosissima frase di martin luther king che è stra stra abusata che la mia libertà finisce quando inizia la tua e se noi intendiamo un embrione come una vera e propria vita che sta crescendo che si sta evolvendo all'interno della nostra pancia del nostro utero allora le argomentazioni non si possono semplicemente fermare al il corpo è mio faccio quello che voglio io perché ok è vero che io sono la donna io devo partorire questo bambino ma dentro di me c'è qualcun altro anche se non può parlare anche se non può esprimersi non può piangere non può dispiacersi io comunque sto scegliendo per qualcun altro secondo me la cosa su cui si dovrebbe puntare di più è un'educazione sessuale qua in italia ce n'è davvero pochissima e invece è molto molto importante sia per capire cosa succede semplicemente quando si ha un'esperienza sessuale quali sono i rischi e quali sono i modi per prevenire malattie gravidanze indesiderate eccetera eccetera secondo me è un punto fondamentale su cui si dovrebbe veramente spingere prima di parlare di aborto bisognerebbe avere un'educazione sessuale molto importante alla base dopo di che come vi accennavo all'inizio secondo me non c'è una risposta giusta sull'aborto secondo me non c'è una visione corretta cioè se è giusto o meno abortire probabilmente è giusto che ci sia la possibilità di farlo questo penso di sì ma moralmente non c'è un'etica universale non esiste una morale che valga per tutti di conseguenza non mi sento neanche di arrabbiarmi contro le persone che dicono che l'aborto è un omicidio perché tutto sta in cosa pensi tu di vita come intendi tu una vita probabilmente questo video molto confusionario perché ho cercato di portare avanti le due tesi insieme proprio perché non volevo darne semplicemente una ma volevo aprire un attimo una discussione quindi vorrei sapere che cosa ne pensate voi a riguardo dell'aborto se pensate che sia giusto che sia sbagliato mi interesserebbe davvero molto sapere il vostro parere a riguardo sempre con toni pacati perché mi rendo conto che è un argomento un po forte forse di quindi su cui discutere come sempre trovate sotto nell'info box tutti i link ai miei social quindi instagram trovate anche la mail e l'account su goodreads perché mi piace moltissimo condividere con voi le letture che faccio e niente vi mando un grossissimo bacione e ci vediamo al prossimo video ciao